buongiorno oggi siamo all'oratorio della beata vergine addolorata di anguillera veneta in provincia di padova l'oratorio sorge all'ingresso del centro abitato di anguillara a poche centinaia di metri dalla rotatoria sulla strada provinciale con selvana già a partire dal xvi secolo era testimonianza la presenza di un capitello costruito precedentemente dopo la miracolosa apparizione della madonna alla pia donna della famiglia morello forse sul luogo di un'antica chiesa di anguillara dal 1734 venne poi ricordata l'esistenza di un saccello dedicato alla beata vergine addolorata successivamente ampliato e trasformato in oratorio nel 1792 per opera di antonio trevisano nel 1855 nel territorio ci fu un'epidemia di colera in tale occasione la popolazione di anguillara ottenuta la fine del contagio per intercessione della vergine adempirono al voto costruendo un oratorio più ampio portato a termine nel 1865 nelle forme attuali il luogo di culto si presenta di struttura circolare con due piccoli torri campanari rotonde a fianco del presbiterio il progetto fu dell'architetto filippo fabris sul disegno dell'architetto triestino federico e tiez come ricorda la lapide posta sopra la porta d'ingresso l'interno dell'oratorio è semplice disadorno per concentrare la vista sull'altare maggiore dove troneggia la madonna con il cristo morto in grembo opera di maestro sadisburghese databile tra il 1420 e il 1425 realizzata in gustain una pietra artificiale composta da gesso calce e sabbia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.